Ciao a tutti amici, andiamo oggi a vedere quali sono gli errori assolutamente da non fare per chi decide di creare un nuovo giardino o un nuovo terrazzo in quest'anno. I 5 errori da evitare. Chi sono io per parlarvi di questo? Mi chiamo Alessandro e faccio l'agronomo e il garden designer e nella mia attività aiuto proprio le persone a progettare e a gestire i loro nuovi spazi verdi. Il primo errore assolutamente da evitare è quello di scegliere piante ad elevata richiesta idrica e con questo tipo di piante sto parlando di tutte quelle piante che stanno molto bene all'ombra, quindi se il vostro giardino avrà un'esposizione di pieno sole sicuramente piante come le osta, le idrangee, tanto per fare degli esempi, le dovremmo evitare. Andremo invece a scegliere quelle che sono le piante della nostra flora italica, le piante della macchia mediterranea che sono delle piante a bassa esigenza idrica anche perché dobbiamo ormai adeguarci al fatto che i cambiamenti climatici ci impongono di scegliere piante che sono resistenti all'asciutto e che siano anche belle da vedere e soprattutto fiorite che è quello che cerchiamo. Quindi sì graminacee, sì piante mediterranee della macchia mediterranea e evitiamo quindi piante a troppo elevata richiesta di acqua che molto probabilmente non riusciremmo a seguire. Secondo errore da evitare assolutamente sia per chi fa un terrazzo che per chi crea un nuovo giardino è quello di non pacciamare. La pacciamatura ne abbiamo già parlato in altri video è molto importante e ci serve anche soprattutto sempre per il discorso del risparmio idrico. Oltre a questo protegge le nostre amate piante dalle erbe infestanti per questo motivo la pacciamatura sia in un nuovo giardino magari in una iuola o in una fioriera o un nuovo vaso su di un terrazzo è assolutamente un'abitudine da prendere e da mantenere e da utilizzare il più possibile. Quindi o un telo plastico magari anche biodegradabile oppure anche la corteccia, la pillo o tanti altri materiali vanno bene, sono tutti elementi utili per il nostro fine di avere giardini a bassa manutenzione, a elevata bellezza e bassa richiesta di acqua. Terzo errore da evitare assolutamente come la peste è quello di scegliere gli alberi sbagliati per il luogo dove li vogliamo andare a piantare. Sto parlando di mettere piante di prima grandezza come possono essere per esempio un faggio, una quercia o un cedro vicino a una casa, tre o quattro metri da una casa. Questo è un errore madornale che vedo spessissimo nella maggior parte dei giardini proprio perché ci costringerà nel corso degli anni a fare delle potature oltre che dispendiose anche errate su una pianta che invece magari dovrebbe accrescersi sia in larghezza che in altezza di molti metri per mantenere queste piante entro i nostri canoni di tra virgolette sicurezza. Per cui se proprio vogliamo mettere le piante nei nostri giardini, che gli alberi sto parlando, che è una cosa sacrosanta andiamo a scegliere delle piante magari di terza grandezza, se possibilmente autoctone ancora meglio. Ho fatto un video su questo se volete andatevelo a vedere. Siamo al quarto errore da non fare per chi ovviamente di evitare il prato all'inglese ma favorire il cosiddetto tra virgolette prato all'italiano ovvero un prato misto di erbe anche spontanee che se mantenuto nel giusto modo e sia bello da vedere che facile da manutenere. Ancora oggi nella maggioranza dei giardini nuovi che vado a fare il cliente molto spesso vuole il prato all'inglese. Dobbiamo adeguarci al fatto che non siamo in Inghilterra ma siamo in Italia, il clima è diverso e oltretutto il clima sta anche cambiando quindi il prato sempre verde con erba tutta uguale è una cosa un po' da dimenticare. Ci sono un sacco di prati alternativi, ho fatto anche un video su questo altrimenti va anche un bene un prato verde che però possiamo benissimo accettare come un prato sano naturale che non abbia bisogno di diserbante per essere mantenuto e che abbia magari anche bassa richiesta idrica. E veniamo quindi al quinto errore da evitare per un nuovo giardino, una nuova realizzazione, è quello di non studiare un po' a tavolino, non progettare un minimo il giardino. Ora non sto parlando di chiamare per forza un agronomo o un progettista di aree verdi ma sto parlando di fare un minimo di studio preventivo per la vostra nuova realizzazione. La cosa che vi consiglio molto basilare ma che vi aiuterà un sacco è quella di andare a vedere, a studiare i giardini o i terrazzi dei vostri vicini di casa, della vostra città, dei paesi circostanti, prendetevi del tempo per visitare questi giardini, magari domandare ai proprietari quali sono ai vostri vicini le piante che assolutamente vanno meglio, guardatevele, se non conoscete i nomi ci sono delle app fantastiche per riconoscere le piante, ho fatto un video anche su questo e quindi scegliete quelle piante che vedete che hanno fortuna negli altri giardini. Molto spesso questo lo faccio anch'io per i miei progetti ed è veramente un'abitudine molto molto produttiva che favorisce assolutamente la buona riuscita del vostro giardino. E infine vi chiedo ancora una volta di mettere un bel like a questo video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto per sostenere questo e altri video che andrò a mettere sul canale e ditemi anche voi se avete mai pensato a queste cose che vi ho elencato, a questi errori, se vi siete incappati anche voi e per il resto ci vediamo alla prossima puntata. Ciao